Sindaco, una importante commissione consigliare si deve prendere qualche decisione. Allo stato attuale qual è la situazione? Allo stato attuale è che noi stiamo andando avanti con l'attività di programmazione. Si sono aggiunti due ulteriori filoni e tre già presentati in conferenza stampa, che è quello di Fossa, per cui abbiamo circa 450 mila euro per adeguare la risorgimento e portarla ad uno. E poi abbiamo un quinto filone che riguarda due interventi che potremo fare durante l'estate nella scuola di Piano della Lente e nella scuola di Zona Peppi di San Nicolò per migliorare ancora di più l'indice di vulnerabilità. E intanto sono due novità importanti. Poi è chiaro che adesso andrà fatta un'analisi attenta di quello che è il dato che adesso finalmente conosciamo e ribadisco e sottolineo che siamo stati comunque i primi a terminare questi indici di vulnerabilità che non vuol dire mettersi la medaglietta, vuol dire che adesso possiamo ragionare in maniera diversa. Tra l'altro sottolineo che il commissario Errani ha posticipato al 2018 il termine per l'indice di vulnerabilità. Quindi diciamo che noi abbiamo comunque adesso compiuto questo primo atto che è un atto di programmazione. Io spero che oggi la Commissione dia delle indicazioni a questa amministrazione e poi magari anche il Consiglio Comunale ne dovrà dare in modo da riuscire a fare una programmazione che ha la base e che per me è irrinunciabile la sicurezza dei nostri figli. Questo è fondamentale. In settimana sarò nuovamente a Roma da Curcio e poi dal Ministro Fedeli perché intanto ci venga autorizzata questa struttura giolli importante presso lo stadio di Piano Daccia che ci permetta anche poi di utilizzare questi spazi quando andremo a fare i miglioramenti e gli adeguamenti di alcune scuole. Grazie. 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 Grazie.